Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, una esperienza notevole in magistratura associata, è stato in giunta per tanti anni, adesso è sulle barricate di un incarico particolarmente sensibile e difficile. Che percezione ha di questo congresso? Ho una percezione molto positiva perché vedo che c'è una grande comunità di intenti, c'è una ricerca costante tra le varie componenti, tra le varie anime dell'associazione di un dialogo e di costruire la volontà di costruire qualcosa insieme e di proporsi nel rapporto con il potere politico che è il nostro interlocutore nel modo più propositivo possibile. Credo che non esistano momenti facili per la magistratura nei suoi rapporti con la politica ma che questo momento, certamente non facile, però sia gravido di conseguenze favorevoli sul piano dell'efficacia e dell'efficienza del servizio giustizia che è un servizio per i cittadini e quindi dovrebbe vedere uniti politici e magistrati nel perseguimento di questo obiettivo. Il titolo del congresso è diritti e le nuove sfide, quale nuova sfida auspica che venga vinta dal sistema giustizia? La sfida della difesa dello Stato di diritto che è tale perché non ammette poteri al di fuori e al di sopra della legge, con la conseguenza che la lotta ai poteri criminali da un'affermazione di principio deve diventare un obiettivo da perseguire concretamente come stiamo facendo e la sconfitta dei poteri criminali debba essere un obiettivo da realizzare. Molte grazie e molti auguri. Grazie a tutti.